Poiché, tra gli altri, la Fondazione Terra, che è scortatrice di numero 32.500.000 azioni, ha votato a favore, dichiaro approvata la delibera proposta con la maggioranza dei voti presenti. Sono circa le 13.30 di oggi quando il commissario straordinario Riccardo Sora fa la dichiarazione che avete appena ascoltato. È la pietra tombale che cala sulla banca degli abruzzesi, la banca dei terramani, la banca che, come diceva lo slogan, cresceva con te. La maggioranza degli azionisti presenti, 61, aveva votato contro o si erano astenuti. La maggioranza delle quote, detenute dalla Fondazione Tercas, ha deciso il passaggio. Banca Tercas è da questo preciso istante una costola della Banca Popolare di Bari, la Banca di Puglia, la Banca di una famiglia, la Banca dei Pugliesi e nemmeno tutti. Una scelta obbligata, quella presa dalla Fondazione Tercas, con il presidente Nuzzo nei panni di carnefice e vittima, che a malincuore ha dato il suo voto decisivo per la ricapitalizzazione e la cessione dell'intero pacchetto azionario nelle mani dei baresi. La Fondazione è fuori dalla Tercas, gli azionisti sono con un pugno di carta straccia in mano, le vecchie azioni. Il territorio resta orfano del motore economico. Chiara l'amarezza di chi, come Mario Nuzzo, ha dovuto sancire la fine di una storia e anche di un'era. La fine della Tercas sarebbe stata decretata se questa proposta non fosse stata approvata, perché allora ci sarebbe stato il fallimento, la liquidazione coatta della banca e quindi la disgregazione dell'azienda bancaria, la non tutela dei dipendenti, la non tutela dei depositanti con depositi superiori a 100 milioni di euro, oltre alla perdita del valore delle azioni, alla perdita delle obbligazioni, insomma una situazione ancora più drammatica di quella già drammatica che abbiamo vissuto. Questo ha finito per porre a carico dei soci, di tutti i soci, ma della Fondazione in particolare, perché come socio di maggioranza una responsabilità, quella cioè di scegliere fra le emozioni e la ragionevolezza e la scelta è stata quella di far prevalere la ragionevolezza per tentare di contenere al minimo i danni e per assicurare alla banca Tercas una possibilità in un contesto diverso, una nuova proprietà, ma la possibilità di una ripresa sul territorio. La Fondazione, come già ho detto tante volte, ha una vita separata rispetto a quella della banca, certo. Storicamente siamo la continuità l'uno dell'altro, ma la Fondazione ha un suo patrimonio, non investito nella banca, un patrimonio finanziario che le ha consentito già in questi due anni di mancata percezione di tendi bancari di continuare a svolgere la sua attività nel solco della tradizione, continuando a fare erogazioni in linea con quelle che sono stati fatti gli anni precedenti. Quindi la Fondazione farà la fondazione senza più una partecipazione nella banca, come del resto ce ne sono ormai tante in Italia. Gli azionisti hanno provato a chiedere spiegazioni, a chiedere di più, a cercare quello che non potevano più trovare. Anche sulle responsabilità c'è unità di intenti. Qui muore la politica terramana che non è riuscita a far sopravvivere una banca, una che è arrivata tra le prime dieci d'Italia, non è riuscita a salvaguardare il patrimonio economico della provincia di Teramo e muore anche tutta la finanza terramana, perché noi avevamo un'eccellenza che era la Tercas e questa eccellenza è stata distrutta. Voglio dire che ci sono responsabilità, perché queste non contano niente. Qui contano tanti azionisti che hanno perso tutto quello che avevano, c'è gente che ci ha investito anche la pensione. La politica però avrebbe potuto fare qualcosa di più? Il sindaco di Teramo ha la risposta. Sicuramente è una sconfitta dell'economia terramana, sicuramente è una sconfitta del nostro territorio, un grave danno non soltanto agli azionisti ma a tutto il territorio. Dall'altra parte c'è il rovescio della medaglia che così come si era determinata la situazione sono salvi i posti di lavoro, sono salve le obbligazioni. Comunque sia è un danno a questo territorio di misure pazzesche. Sul discorso della politica, insomma io non credo, quando la politica si occupa di attività di questo genere, pensiamo a Montepaschi, viene accusata di occuparsi di cose di cui non si dovrebbe occupare. Quando poi non se ne occupa si viene accusati dell'inverso. Io da parte mia ho cercato di fare tutto il possibile quando c'era la possibilità di fare una banca regionale. Ho parlato con i miei colleghi sindaci dell'Aquila, di Pescara, di Chieti, per vedere se le fondazioni unendosi potevano costruire una banca del territorio regionale. Quando poi si è visto che il danno era di dimensioni notevolmente superiori a quelli che poteva essere l'impegno delle fondazioni, oggettivamente non c'era più niente da fare. insomma.